Nell'est della Repubblica Democratica del Congo esiste un osi che aiuta le scimmie traumatizzate. È il centro di riabilitazione per primati di Luiro, 4 ettari immersi in una grande riserva verde. Creato nel 2002 dall'Istituto Congolese per la Conservazione della Natura e il centro di ricerca in scienze naturali, il centro di riabilitazione è situato non lontano dal Parco Nazionale di Kausibiega, il santuario degli ultimi gorilla, 600.000 ettari situati a 45 chilometri ovest da Bukavu, capitale del sud Kivu. Nel centro vengono raccolti tra gli altri gli scimpanzei, i gorilla, i bonobo o altre piccole scimmie vittime del bracconaggio, il tutto in una regione dove regna l'insicurezza a causa dell'attivismo di migliaia di gruppi armati. Nella famiglia Bonanè ci sono quattro cuccioli, vivono allo stato brado, spiega il capo delle guide del Parco di Kausibiega, Lambert Ciringuami. I gorilla hanno solo bisogno di sicurezza, questo è il punto. Se c'è la sicurezza, i gorilla evolvono molto facilmente e molto in fretta. Attualmente il centro ospita 110 scimpanzè che consumano ciascuno 6 chili di cibo al giorno, tra frutta, cereali e verdure. Per nutrirli qui impieghiamo al giorno almeno 9 ore, arriviamo alle 6 e 30, diamo loro le crocchette, le banale. Se ci sono degli animali ammalati, approfittiamo di questo momento per dare loro le medicine, racconta Silvestre Libacu, manager del centro di riabilitazione. A Luiro gli animali vengono non solo nutriti, ma anche curati e sottoposti a trattamento psicologico per guarire dai traumi ricevuti. La maggior parte di loro sono infatti stati recuperati dai bracconieri o da persone che li detenevano illegalmente. Per riprendersi a questi animali serve un tempo indefinito, a volte diverse settimane, a volte di più. Ad oggi non c'è il coinvolgimento del governo al 100% nella presa in carico del centro di riabilitazione di primati di Luiro. È l'impegno di persone di buona volontà che tentano di proteggere animali che sono fortemente minacciati, conclude Ernest Calalise, assistente veterinario del centro.